È giovedì e come ogni giovedì torna 31 minuti. L'appuntamento è questa sera alle ore 22, naturalmente qui sul Rete8. Questa sera parliamo di acqua. Senza acqua è il titolo della nostra inchiesta della settimana. Siamo tornati indietro nel tempo per capire perché in questi giorni si manifestano ancora disagi nelle nostre case. Manca poco a Natale, manca poco all'inverno, eppure nelle nostre case manca ancora l'acqua. Eppure l'Abruzzo è la regione del Gran Sasso, della Maiella e del Morrone. E poi parleremo questa sera anche del futuro, perché c'è una grande opera dal valore di circa 1000 milioni di euro che potrebbe mettere in bilico l'equilibrio dell'acqua abruzzese. Stiamo parlando del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma che prevede un traforo di 11 km nel Monte Rotondo, la catena del Morrone. E quindi vi aspettiamo questa sera alle ore 22 qui sul Rete8 e seguiteci sui nostri social.